momenti di essere il ricordo in seguire il tempo non è mai semplice ora ascoltiamo liliana rampello buon pomeriggio a tutte e a tutti io ringrazio il circolo dei lettori di torino che da tempo come ha già ricordato francesca bolino ci accompagna nella lettura o rilettura di virginia wolf offrendoci così l'occasione per tornare ai suoi testi ai suoi romanzi ai suoi saggi all'insieme della sua opera al suo pensiero e quindi la possiamo guardare più da vicino e imparare a conoscerla meglio e questo secondo me è molto importante perché così vediamo nell'insieme vediamo la grandezza di questa scrittrice anche di questa pensatrice molto lungimirante quest'anno al centro dei nostri incontri abbiamo messo come virginia wolf lavora alla raffigurazione della vita alla rappresentazione della vita attraverso la scoperta di una temporalità molto particolare che le sarà utile sia nell'invenzione narrativa che appunto in tutti gli altri scritti anche in quelli privati cosiddetti privati come il diario o le note autobiografiche allora partirò proprio da qui da alcune note autobiografiche che sono state man mano ritrovate negli anni e che sono state raccolte in un libro nel 1976 in un libro inglese curato da una bravissima studiosa jean schulkind e intitolato moments of being momenti di essere questa questa prima edizione del 76 mancava di 15 pagine che sono state ritrovate negli anni seguenti che sono state poi pubblicate nel 2002 in una in una nuova edizione la traduzione italiana di questo bellissimo testo è stata fatta dalla tartaruga nel 1977 con la traduzione di Adriana bottini e nel 2020 cioè quest'anno all'inizio quest'anno io ho curato la nuova edizione che appunto riporta le famose 15 pagine ritrovate tradotte da sarah sullam così che oggi abbiamo l'intero testo scritto da da virginia vu durante gli anni allora però bisogna partire da una precisazione ovvero che questo testo momenti di essere virginia vu non lo ha mai scritto nel senso che i cinque pezzi ritrovati erano pezzi che lei aveva letto parlando con gli amici nella cerchia dei suoi amici ricordando momenti della sua esistenza passata e soprattutto e anche dei molti lutti che hanno attraversato la sua vita la morte del padre la morte della madre della sorella della stella del fratello toby ecco ricordi di famiglia e ricordi di di vita sociale che le aveva vissuto e questo a questo queste note si si estendono dal 1907 al 1940 ora da questo punto di vista non avendolo mai composto e scritto il libro è molto particolare perché è molto nella lettura per noi è molto fresco e molto diretto e molto immediato proprio perché nasceva da una conversazione orale e questo 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 fatto ci fa sentire proprio il tono il timbro il colore della voce di virginia wolf anche perché essendo testi orali sono sempre rivolte a una specie di tu no il tu di chi ascolta che spesso erano appunto gli amici come dicevo i familiari in uno in particolare proprio un tu preciso è julian il nipote da lei prediletto il primo genito della matissima sorella vanessa dunque in questa in questa raccolta di note autobiografiche ci sono anche pezzi molto divertenti perché virginia wolf era veramente una mente molto sofisticata ironica con una lingua sbrigliatissima uno di questi si intitola vecchio bloomsbury ora bloomsbury era un quartiere di londra che poi ha finito per dare il nome a un famoso gruppo il gruppo di bloomsbury e che qui invece viene quasi nominato come un vecchio amico vecchio bloomsbury ecco che cos'era il questo famosissimo gruppo di bloomsbury nel racconto di virginia wolf siamo riportati alla sua origine e all'inizio questo famoso gruppo non era altro che un gruppo di ragazzi molto colti molto dotati che frequentavano cambridge con il fari con il fratello di virginia wolf cioè toby e il giovedì sera si trovavano nella casa delle due sorelle steven vanessa e virginia a fare cosa a fare quello che fanno tutti i ragazzi cioè a chiacchierare a fare notte tarda bevendo caffè cioccolata whisky parlando dei massimi sistemi la verità cos'è la verità cos'è l'amore cos'è la bellezza ma anche chiacchierando di confidenze intime di intime nefandezze che ribalteranno appunto l'insieme della loro educazione vittoriana che era stata un'educazione molto chiusa bigotta noiosa scura ben pensante ecco questo salotto sarà per le per le due sorelle steven virginia e vanessa una vera e propria palestra di intelligenza perché finalmente non saranno più quelle presenze bellissime ornamentali e del tutto insignificanti quali erano le ragazze nel salotto vittoriano ma diventano due ragazze che sanno pensare argomentare discutere che propongono le loro opinioni che vengono prese sul serio dal gruppo di amici ora questo questo gruppo ormai lo sappiamo da tempo era formato dalle menti più brillanti dei primi anni del novecento perché fra loro incontriamo l'economista minor keynes il critico d'arte clive bell che sposerà vanessa la sorella di virginia il marito di virginia leonard wolf linton strachey grande biografo storico del vittorianesimo duncan grant un pittore roger fry critico pittore collezionista foster grande scrittore desmond e molly mccarty insomma adesso inutile fare l'elenco certamente questo gruppo era un gruppo formidabile che ha illuminato londra in tutti quegli anni e che è soprattutto però adesso lo scopriamo proprio con grande evidenza nello scritto di virginia wolf era soprattutto una comunità di amici questo è molto importante e a questo a questo testo si contrappone quasi in modo speculare un altro testo che lei scrive sempre per queste letture tra gli amici che si intitola hide park gate 22 che altri non è che la strada con il numero civico della casa in cui vivevano viveva la famiglia steven la famiglia di questo grande studioso e critico letterario leslie il padre ed è una casa tipicamente vittoriana di cui conosciamo i dettagli sia per quanto riguarda attraverso questo testo naturalmente sia per quanto riguarda proprio la struttura della casa no dai piani alti fino giù al salotto alla biblioteca paterna eccetera eccetera ma anche conosciamo lì tutti i riti più o meno sacri della quotidianità vittoriana ora questa casa diciamo esiste fino al 1904 quando il padre muore quando leslie steven muore la sorella vanessa ci dice virginia wolf dice esattamente vendette bruciò mise da parte stracciò ovvero fece fuori la casa paterna la casa che così l'aveva in qualche modo affaticata per l'educazione che lì veniva in partita e vanessa virginia i due fratelli toby ed edrian si trasferiscono al 46 di gordon square in bloomsbury appunto un quartiere molto più come possiamo dire abitato da artisti molto meno upper class come era stato kensington ovvero hypergate e lì comincia una nuova vita la casa è colorata colorata dalla pittura di vanessa bell e le finestre si aprono su questa grande piazza piena di verde e lì appunto cominciano nel 1905 precisamente il 16 marzo le riunioni del gruppo che sarà appunto definito il gruppo di bloomsbury bene io non posso ragionare su tutte le pagine raccolte in questo bellissimo testo e quindi per tener fede diciamo al tema scelto per questo ciclo ho deciso di parlare soprattutto in modo particolare di quello che a me sembra il testo principale il cuore diciamo di queste note perché ci aiutano a capire come virginia wolf ha scritto e soprattutto come ha scoperto questa sua temporalità particolare quella che utilizzerà nella nei romanzi e che sarà il centro diciamo il fulcro della sua poetica ovvero il testo di cui parlerò si intitola uno schizzo del passato e risale all'ultimo anno di vita di virginia wolf perché è stato elaborato da lei tra il l'aprile del 39 e il novembre del 1940 quindi praticamente quattro mesi prima del suo suicidio che avviene nel marzo del 41 dunque in questo testo come dicevamo affiorano con chiarezza alcuni elementi propri della temporalità che scopre che virginia wolf scopre e che adesso era accorcio naturalmente un po brutalmente in tre piani il primo è l'importanza del caso e dell'involontarietà del ricordo questo a questa involontarietà questa casualità le la chiama la scossa il secondo è come sono e che cosa sono i momenti di essere ovvero che cosa che cosa intende dirci lei quando chiama l'irrompere nello scorrere inappariscente del tempo cronologico un momento che lei definisce momento di essere il terzo piano diciamo è la scoperta appunto della centralità della madre e dell'infanzia come origine e proprio radice di tutta la sua scrittura in subordine poi ci sono anche delle pagine che sono relative al padre che sono appunto le 15 pagine famose scoperte e ancora inedite che ci fanno sono molto utili molto interessanti per altre ragioni che vedremo dunque lo schizzo si apre con una specie di catalogo di immagini che riportano virginia wolf alle sensazioni di un'estasi pura e che cosa sono queste immagini i colori del vestito a fiori della madre quando lei era molto bambina molto piccola il rumore del frangersi delle onde a saint ives in cornovaglia dove andava dove la famiglia steven andava in vacanza tutti gli anni il gracchiare dei corvi il ronzio delle api il sentiero che portava dalla casa alla spiaggia e la stanza dei bambini ecco sono tutte impressioni sensazioni emozioni ecco che cosa sono dunque questi ricordi quando affiorano questa è la domanda che virginia wolf si sta facendo mentre mentre pensa a questi ricordi bene perché riaffiorano questi e non altri allora tutti noi nella nostra esperienza sappiamo che alla memoria non possiamo comandare e il ricordo affiora sempre dal dimenticato da ciò che non ricordiamo più e affiora secondo virginia wolf affiora in modo appunto involontario e casuale buca il tempo delle nostre abitudini e porta con sé qualcosa che non è facilmente decifrabile da un punto di vista razionale perché è secondo wolf semplicemente una sinestesia vale a dire una contaminazione una combinazione delle nostre percezioni personali se torniamo a quello che ho appena detto che cosa che cosa affiora nel ricordo il colore dei fiori del vestito della madre quindi la vista viene viene coinvolta la vista il rumore del frangiasi delle onde e viene coinvolto l'udito i profumi che c'erano lungo nella spiaggia lungo il sentiero per la spiaggia quindi l'olfatto come vedete sono i nostri sensi che sono coinvolti nelle emozioni che affiorano dal passato e sono emozioni molto intensi e il problema allora che ha di fronte virginia wolf è come si scrive come si trascrive come si mette in scrittura una una un'emozione così intensa che poi questo è l'assillo di ogni scrittore se ci pensate perché il problema appunto davanti allo scrittore come si rappresenta la vita vissuta come la si afferra come la si scrive come si trasferisce un'emozione una visione una una sensazione un'immagine che occupa uno spazio mentale nella scrittura che occupa invece riga dopo riga un tempo un tempo che si deve sviluppare ecco è ragionando su questo piano che virginia wolf arriva a capire quanto tre episodi della sua infanzia l'abbiano l'abbiano fatto scoprire non solo la sua vocazione di scrittrice ovvero che voleva essere una scrittrice ma anche il come avrebbe voluto esserlo e di questi tre episodi due sono legati a una sensazione di dolore di infelicità una lite col fratellino toby un tronco di un albero legato però alla notizia improvvisa di un suicidio e il terzo invece quello relativo a un fiore a un fiore che lei vede come parte della terra stessa e quindi come un tutto che le dà una sensazione di forte felicità ecco le emozioni legate a questi episodi le danno le danno lei ce lo scrive direttamente una scossa che cos'è questa scossa la scossa per wolf per wolf è una fenditura in quell'urna che il nostro io un'urna un vaso sigillato che galleggia e qui cito su quella che per convenienza chiameremo realtà e che all'improvviso quando il sigillo si rompe viene invasa dalla realtà vera lo vatta della vita quotidiana lei ci dice viene squarciata e rivela un altro ordine allora il colpo che lei sente quando la fenditura dell'urna fa penetrare la realtà vera è cito il segno di qualcosa di reale che si cela dietro le apparenze e sono io che lo rendo reale esprimendolo in parole allora se stiamo attenti quello che ci sta dicendo è che c'è una realtà vera dietro le apparenze la vita quotidiana scorre invisibile continua ed è inafferrabile ma quando un'emozione involontaria che arriva dal passato la squarcia allora noi siamo invasi dalla realtà vera ed è questo momento che va scritto che va trascritto perché diventi reale e vero per sempre questo è per virginia wolf il momento di essere la scossa interrompe lo svolgersi quotidiano inesorabile del tempo inafferrabile il ricordo si cristallizza in un momento che è il nostro presente questa è la scoperta temporale di wolf il presente che non è appunto un momento del sviluppo dal passato verso il futuro il momento vuoto di sant'agostino presente ciò che non è ancora stato e ciò che ancora non sarà no 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 il presente è pieno quando noi raccogliamo il momento di essere il momento di essere dunque è un evento ed è un avvento e quando un ricordo appunto affiore involontario nella nostra mente il tempo è definitivamente sconquassato perde ogni linearità come dicevo perché nella tazza e tazza naturalmente è una parola di wolf perché è meravigliosa nella tazza del passato sono depositati insieme il fatto e l'emozione che l'accompagnava ma fatto e emozione non coincidono tanto è vero che molti anni prima nel 1925 virginia wolf aveva lasciato cadere in una nota del suo diario una un'osservazione molto importante direi un'osservazione decisiva da questo punto di vista ve la leggo il passato è bello perché nessuno riesce a rendersi conto dell'emozione quando accade l'emozione si espande col tempo così non abbiamo delle emozioni complete nel presente ma solo riguardo al passato fine della citazione dunque il tempo fa le capriole al momento del fatto l'emozione non si espande lo farà nel futuro ma lì arriva come presente che attualizza quel passato portandolo a compimento come vedete dunque la linearità non esiste più è una notazione capitale che spalanca e risignifica due aree tematiche semantiche molto importanti che sono da un lato la realtà che cos'è la realtà sotto la crosta sottile dell'esistenza e dall'altro l'io l'io che è il soggetto che sembra abitare quella realtà e che deve però scriverla ecco scrivere per la virginia wolf porta a unità quanto appare frammentato quindi sconfigge la paura sconfigge il dolore e la fa le fa intuire e qui un'altra lunga citazione che vi leggerò le fa intuire che dietro lo vatta si cela un disegno che noi tutti noi esseri umani rientriamo nel disegno che il mondo è intero un'opera d'arte che noi siamo parte di quell'opera d'arte l'amleto un quartetto di beethoven è la verità su questa massa immane che chiamiamo mondo ma non esiste nessuno shakespeare non esiste nessun beethoven sicuramente decisamente non esiste nessun dio noi siamo le parole noi siamo la musica noi siamo la realtà e io lo vedo tutto questo quando subisco una scossa ecco se il 5 maggio del 1895 quando muore la madre la madre di virginia wolf giulia steven la realtà di tutto il suo mondo di bambina sprofonda nell'irrealtà la possibilità ora che lei ha trovato di ricomporre l'infranto di oltrepassare la ferita subita quando aveva era solo 13 anni diventa l'ebbrezza di una scrittura che rende reale la vita perché riesce finalmente a dirla e a dirla non è l'io prepotente dominatore dell'ottocento è un io fragile un io intermittente un io fluido è l'io che lei ha visto nelle pagine di montagne di de quincy e d'altra parte che l'io sia fratto il novecento lo mostrerà con la scoperta dell'inconscio di di freud bene questo io così fragile e fluido insegue se stesso nel tempo quando scrive senza però mai fissarsi in un'identità certa virginia wolf ci dice a un certo punto in queste note che sta scrivendo questa cosa oggi ma che se la dovesse scrivere un anno dopo lo avrebbe scritto in modo diverso ovviamente come sappiamo anche noi stessi bene questo io dice la verità della realtà quando sente dietro i fatti le emozioni incompiute del vissuto e quando quindi si tiene in equilibrio insieme al suo mondo lei ha detto noi siamo la cosa stessa the thing itself senza pretendere quindi di dominare il reale ma mettendosi sul piano insieme al reale è solo lì che avviene un'epifania e ciò che si rivela in questi momenti di essere è lei ci dice l'impalcatura stessa della sua infanzia la scoperta alle sue spalle della parte invisibile e tacita ci dice della mia vita da bambina è a questo punto che virginia scrive la riga più importante secondo me di tutto il saggio che è questa eccola mia madre al centro della vasta cattedrale che era l'infanzia era là dall'inizio dunque l'infanzia non è perduta per sempre anzi è la radice nascosta della sua scrittura l'infanzia e la madre sono al centro di tutto il suo lavoro creativo questo inizio questa affermazione era là dall'inizio è l'origine che segna la riflessione di virginia wolf non solo quando inventa pensate al faro no che forse il libro più strettamente prossimo alla sua vita vissuta ma anche la riflessione famosissima della stanza tutta per sé dove virginia wolf di fatto costruisce una genealogia di scrittrice che la precedono ovvero inventa la sua stessa tradizione di scrittrice e fa di questa tradizione un atto di riconoscimento con riconoscenza ecco questo elemento c'è la scoperta di della possibilità che esista una che ci sia prima di noi una donna più grande di noi che ci ha preceduto che ha aperto la strada è fonte di forza secondo virginia wolf perché sostituisce a quella diffusa e brutta invidia tra donne che di solito nasce quando le donne sono sotto lo sguardo maschile sostituisce a quell'invidia diffusa un altro sentimento molto più importante e che dà molta forza a tutte che è l'ammirazione il riconoscimento la riconoscenza verso un'altra questo dunque il nucleo secondo me centrale di queste note autobiografiche che non spiegano che però ci permettono di capire meglio tutta una serie di invenzioni wolfiane tutta la sua continua ricerca sempre nuova libro dopo libro romanzo dopo romanzo di una struttura diversa da quello precedente l'origine che alle sue spalle e che appunto è l'infanzia con la madre al centro come vi dicevo a fianco di queste pagine che sono appunto molto importanti e all'interno anzi di queste pagine dello schizzo sono comparse 15 pagine inedite che sono tutte dedicate invece alla figura del padre figura che virginia wolf amava sicuro padre che virginia wolf amava sicuramente molto e verso il quale però nutre un sentimento particolare cito quello che lei scrive appunto in queste pagine ma in me non in lei lei è vanessa la rabbia si alternava all'amore ho scoperto solo qualche giorno fa leggendo freud per la prima volta che questo conflitto tra amore e odio fortemente inquietante è un sentimento comune e a nome ambivalenza ma perché ambivalenza perché lei sa da sempre dell'immensa importanza del suo legame col padre e il padre il padre appunto famoso studioso critico d'arte e direttore del dizionario biografico inglese nazionale quindi un intellettuale di grande peso beh questo padre fin da quando lei era bambina aveva detta alla madre rivolgendosi alla madre sai ti dirò che ginni questo è il nome di virginia da bambina che ginni diventerà un'autrice non dice nemmeno scrittrice dice autrice autrice che per uno studioso del suo calibro era il massimo del complimento possibile è il padre che la lascia scorazzare libera nella sua immensa biblioteca guardandola sempre con compiacimento quando prende un nuovo libro dallo scaffale ma è anche il padre verso il quale lei provava una rabbia profonda per le scenate violente piene di sconforto teatralizzato dopo la morte della madre per il suo bisogno continuo di ammirazione attenzione e cura da parte delle figlie e quindi l'ambivalenza è perché la furia si alterna nel suo nel suo cuore al rispetto al riconoscimento della sua integrità morale che però si fonde con la paura di questo carattere così selvaggio così violento ecco queste righe sul padre ci aiutano a mettere in prospettiva meglio ad esempio il rapporto che virginia wool fa con gli uomini con gli amici con il marito perché sicuramente leonard il primo a cui lei consegna la sua scrittura il suo nuovo romanzo è il primo da cui aspetta con come dire sospensione e timore il giudizio è il primo dunque a cui riconosce autorevolezza rispetto al valore di ciò che lei sta facendo è il primo anche che in modo francamente straordinario riconosce il genio della moglie ecco io mi fermo qui vi invito alla lettura di queste pagine e di questo testo che ho appunto un po' brutalmente scorciato ma qui incontrerete secondo me pagine bellissime che passano dall'autoanalisi alla commedia sociale dalle legia al riso sullo snobismo sul suo snobismo presunto dalla ricerca della verità della vita alla riflessione sulla morte e sono scritte tutte queste pagine con una stupefacente chiarezza e bellezza grazie a tutti